La maggior parte delle nozioni che ho presentato non erano nuove alle persone che facevano parte del forum. Quello che forse manca e quello che sembra effettivamente essere emerso dal forum non è tanto una mancanza di conoscenze scientifiche, ma un gap nell'implementazione di queste conoscenze. Quello che forse manca non è tanto il sapere quali sono le azioni da fare per ridurre i tassi di perdita di biodiversità, per ridurre le emissioni climatiche, per essere più sostenibili nel modo in cui produciamo per esempio il cibo, l'energia. Quello che sembra mancare sia trasmettere queste nozioni alla società, ai cittadini, agli attivisti, a tutte le persone che sono in prima battuta responsabili per il consumo di queste risorse, ma anche per la produzione di queste risorse. Il secondo punto importante che è emerso è un gap di implementazione a livello di politica locale. Molto spesso chi si trova a prendere decisioni nell'ambito di una regione, di una provincia, di un comune, non è necessariamente a conoscenza di queste informazioni. Quindi quello che sembra non sia tanto, io sono uno scienziato, mi occupo di produrre informazioni e dati tecnici molto spesso, sembra che non sia tanto quello il problema, cioè quello dell'aumentare la nostra conoscenza, cheppure rimane chiaramente una cosa importante da fare. Sembra che il problema fondamentale al momento sia come trasmettiamo questa conoscenza a chi prende le decisioni tutti i giorni, quindi a chi è un consumatore deve decidere quale prodotto comprare al supermercato e a chi magari si occupa di politica a scala locale deve decidere per esempio quale piano urbanistico adottare oppure quale piano di sviluppo del territorio adottare. Gli eventi come quello dei colloqui di Dubiaco forse possono assolvere a questo ruolo che è fondamentale, cioè possono fare da tramite tra chi produce questo tipo di informazioni e chi le deve applicare, chi le deve utilizzare nella vita quotidiana o nelle decisioni che vengono prese magari a scala locale. Ecco io credo che i colloqui di Dubiaco possono avere un ruolo importante in questo e spero davvero che il nostro gruppo possa dare un contributo magari piccolo però in questa direzione. Questa è la vera sfida, trasmettere questa informazione a chi deve utilizzarla per prendere decisioni.